Salve ragazzi e benvenuti su Call of Duty Breakout 2 Online Ho deciso di portarvi la mia prima partita, insomma una partita online di Call of Duty Breakout 2 Ok, non creo, contro diet match, io contro tutti e io spero, mostrarsi sua che non si brocca il gioco Visto che nelle ultime due giorni mi si brocca senza un motivo Spero che la visione vi piaccia e ti aspetta il caricamento Se anche voi avete cambiato il Breakout 2 per 3, facciamoci una partita insieme se volete Va bene, si comincia nella zona dei treni Perlomeno, raga non è lo idiot che lo odio Siamo con le Lilia Questa è una Lilia, vabbè Tutti contro tutti Tutti i bersagli sono definiti come ostili Eccolo Muori così E' il primo andato Ho visto uno Però non vedo quello di oro E non voglio morire tanto presto Eccolo Peccato Volevo fare tre Ho fatto due Il mio limiti Il mio limiti chiamato di ossidori per ora E' Solo due Bisogno fare tre Dove sei? Dove sei? Peccati questo Va Fanculo Mi ho preso le spalle Vabbè Per adesso il gioco non mi da problemi Io non so perché Tutti i caragli hanno Hanno Certi problemi Dico Quando avevo il 3 Ecco Anche con il 3 Una volta mi è capitato Mentre facevo la serie Che si Mi era Si era bloccato il gioco Mentre un'altra volta Mi era Un sito Mi sono stato al menu Guarda questo Che non si è accorto di niente E muore Bellissimo Bellissimo proprio Cambio Spendo quest'arma E' là Dove è morire questo Vabbè Lo stai solo a bordo Perfetto Prenda che ce n'è uno qua Adesso Prendi Guarda qua Vado il ruolo a bordo Che è meglio E No niente Eccolo 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 No L'ho mancato Dov'è Si Ma è così Ehm Con un po' Mi sono un attimo perso Quanti morti Sono arrivato Ora Questa è la prima O è la terza Boh Beh facciamo che è la prima Ma Ma dai Ma come ho fatto a non beccarlo Scherziamo Se stavate va così Usi il coltello Ma non l'hai ammazzato Ammazzate per primo Con il fucile Con l'arma Peccato L'ho ammazzato Poi l'italiano L'ho ammazzato Attenzione O avvi nemico in arrivo Mmm Ancora Con un drone D'attacco In un po' in arrivo Come un drone Quanto c'è qualcuno Non vedo nessuno Dintorno Bene Allora Se uno Vaffanculo Che cavolo è stato Una 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 granata Ma non ho capito Come sono morti Esattamente Eh Però credo si Quella granata Qualcuno ha iniziato Un bombardamento Muori Granda nazione Andiamo super il 3 Uno 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 Vai 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 Due Uno Due Ragazzi Uno due Due Doi Doi Voglio fare il 3 Che cavolo Sono a 2 E vanno a 3 Batto il mio record Quindi Attenzione Ho avvi nemico in arrivo Forse se la faccio Adesso ricominchiamo questo No Era colazzato Affanculo E vai Sono a 3 Ho buttato il mio record Ragazzo Tutto Vedo quest'arma In prestito Tutti le canne mozze Cavolo Devo dire Che a me Il futuro Di canne mozze Non è che Piacere tanto Dove sei Dove sei Dove sei Niente Salgo Da questa Altra parte Ma bello Questa si credo Ma che mi piace Ma bello Perlomeno Sono a 4 Uccisioni Aspetta Ho visto Non ho sbaglio Vabbè Passiamo a stare Vediamo di qui Non vedo nessuno Al momento Quindi Quanto Stendo Eccolo Dannazione Ho preso La via di là Oh E muori E non mi ha dato Arpa Va E vai Tra uccisioni Qui diamo 5 Sì 5 uccisioni 6 uccisioni 6 uccisioni Raga Sono 6 uccisioni 7 uccisioni E sono Al terzo posto Terzo posto Con 6 uccisioni 6 uccisioni Grandi Sono stato Sono stato Grandissimo Veramente Sono stato Un mito In questa Pia partita online Di Call Duty Breakouts Che vi porto Sono stato Un grande Per caso Che non sono Salito Ah si Sono salito Di grado 8 Beh Quasi 10 Sono Beh ragazzi Direi che È tutto Mi porterò Comunque Un'altra Partita online Di Call Duty Breakouts 2 Su Prey3 Quindi Alla prossima Ciao raga